Buonissimi e gustosissimi i tacos di melanzane, prepariamoli insieme. Prendere una melanzana, lavarla, togliere il picciolo e tagliarla a fette non troppo sottili. In questo modo, passare ogni singola fetta nell'olio extravergine, su entrambi i lati, passarla nel pan grattato e mettere su una teglia apoderata con carta forno, oliare, salare e cuocere in forno statico a 190 gradi per circa 15 minuti. Ora riprendere le fette, appoggiare un pezzettino di prosciutto cotto, un pezzettino di formaggio e chiudere a mezza luna sigillandolo in uno stecchino. In questo modo, fare così anche con le altre melanzane, ultimare la cottura in forno per altri 5 minuti. Ed eccoli qui, pronti da gustare, sono buonissimi e super filanti!